Allora, il libro inchiesta di Lilli Gruber, edito da Rizzoli, sulla industria del porno. Vorrei partire con te dalla dedica del libro che dice a Erlinde e Alfred che mi hanno insegnato a crescere libera. Ma ti hanno insegnato anche, se te lo posso chiedere, l'educazione sessuale. Cioè, parlavi di sesso con i tuoi genitori? I miei genitori si sono voluti impegnare con i loro figli con l'insegnamento dell'educazione sessuale. Nel senso che la mia mamma, mia sorella, ci ha spiegato che i bambini non li portava la cicoglia e il mio papà, un paio d'anni più tardi, attraverso disegni, letture, eccetera, eccetera, ci ha spiegato come si fanno i bambini, cosa vuol dire l'atto sessuale. E quindi io sono cresciuta libera in questo senso perché la conoscenza ci fa crescere più liberi. E questa è la cosa più importante che ti possono dare i genitori. Cioè il sesso non era un tabù? No. A casa? No, non era un tabù perché i miei genitori erano entrambi molto liberi ed entrambi, ma non perché erano figli della loro generazione. Mia mamma, che è mancata prima di Natale, era del 27 e mio papà del 21. Però credevano profondamente nella necessità di educare i figli alla libertà, ma anche alla responsabilità. Quindi io a 16 anni mi hanno mandato per esempio in Inghilterra, ho visto a 16 anni il mio primo film porno a Londra, in un cinema a luci rosse. Che era vietato ai 18, quindi hai dovuto dire una balla. Ho detto una grande bugia. L'unica bugia della tua vita per vedere un film porno? No, questo non lo so. Però quella volta di sicuro una bugia. Ma nel senso che anche se avevo avuto educazione sessuale dai miei genitori, ero curiosa allo stesso. Non è che questo... Ma questo per togliere quella che tu la ripeti spesso nelle tue presentazioni, siccome c'è questa immagine di una Lillib rigida, bacchettone, in realtà tu in questo grande libro di inchiesta ci racconti uno spaccato della nostra vita e della nostra società. Ecco?